5, 4, 3, 2, 1, vai, 50, ritarda molto al giallo, destra 3, in, sinistra 2, 50, destra 6, lunga, 2, tempi, in occhio sinistra 3, per destra 6, in destra 4, per sinistra 4, lunga, in destra 4, e occhio al birri subito, tornante destro, per sinistra 5, 20, destra 4, gira, apre, 20, sinistra 4, 20, destra 4, per sinistra 4, gira, chiude, poi apre, vai, 150, al birri, destra 3, 20, destra 4, 80, e occhio sfiora sinistra e subito, tornante sinistro, per destra 6, 100, vai, vai, al muro, sinistra 4, 100, attenzione, destra 3, al bivio chiude, 2, e poi chiude, 30, sinistra 5, 30, destra 4, lunga, 80, e occhio al cartello, sinistra 5, 20, e al birri, tornante sinistro, per destra 6, lunga, 100, vai, e attenzione qui, stacca, sinistra 5, secca, e subito, sinistra 5, secca, e subito, tornante destro, 50, destra 6, 50, e al birri, tornante sinistro, per destra 6, vai, vai, oh, come è, ho mai sentito?